Beh è un momento bello, è un momento importante, stiamo venendo fuori da una piccola crisi di risultati, non di gioco e ci siamo ripresi bene, quindi anche con la Coppa andiamo bene, speriamo di un buon sorteggio. Hai fatto parte del Napoli e ha vinto, come si fa a vincere? Beh come si fa a vincere? Per vincere devi avere una squadra competitiva e completa in tutti i reparti a noi manca ancora qualcosa e speriamo che a gennaio il Presidente possa fare qualcosa che ci possa fare il salto di qualità.